Ah quindi loro costruiscono gli altri punti per poi andare Con i vecchi che stanno a guardare i cantieri Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti nel mio nuovo Let's Play Oggi inizia Mario più Rabbids Kingdom Battle Ah, oh dunque, che dire, è un dumpo che volevo provarlo, non l'ho provato quando è uscito Ho detto sai che i Rabbids non mi piacciono per niente Lo so, magari alcuni piacciono, altri no, io sono quello che è no Chissà se questo titolo me li farà rivalutare Comunque sia, cominciamo con la modalità storia principale Primo file ovviamente E vediamo, questa sarà una delle serie estive, ma c'è un filmato? All right, Beepo, that oughta fix the overheating problem Can you believe it's been three months since Tech Magazine put me? Okay, us, on the cover? The Supermerge takes item A and item B and combines them to create item C Oh, if only it were that easy The article says nothing about dark matter, space-time manipulation, practical applications, nothing I mean, the Supermerge could solve the energy crisis, Beepo, watch Huh? Oh, not again Oh, sorry, Beepo Let's take a break and come back at this overheating thing fresh, okay? Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no. Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. O meglio con gli outfit di Peach, Mario e gli altri. Quindi ok, diciamo che ho capito. Oh, eccoci qua, finalmente. Questa è grafica da motore di gioco. Beh, bene. Mamma mia, i Goomba non hanno mai un attimo di riposo. Quasi mi dispiace per loro. Quindi, i nemici sono i Rabbids stessi? Alcuni alleati, quelli che hanno gli outfit di Mario e company. E i nemici sono comunque i Rabbids... Cioè, insomma, che non hanno gli outfit del Regno dei Funghi. Quei Rabbids sono una vera fonte di caos e distruzione. La cosa non sorprende nessuno, vero? Beh, che erano un po' maniaci, lo sapevo. A differenza dei nostri due amici qui, sembrano essere stati alterati da quel Rabbid con il combina tutto. Possibile che il combina tutto si sia danneggiato durante il viaggio verso questo mondo? Se è così, siamo nei guai. Mario, dobbiamo trovare quel povero Rabbid che si è fuso con il combina tutto. È lui la chiave. Salve il Rabbid. Salve il mondo. Salve il cheerleader, salve il mondo. Questa è una citazione a Heroes. Oh, ah, che carino. E anche un po' GDR. Un esempio tremendo, ma anche estremamente divertente, del caos creato dalla collisione dei nostri due mondi. Ok, non posso però saltare in alcuna maniera, né aprire un menu. Ah no, con un start, sì, che abbiamo... Ok. Intanto possiamo raccogliere monete che magari serviranno a comprare oggetti nel corso dell'avventura. E qui iniziano le basi, giusto? È una musica country. Grazie, grazie proprio di un ben nulla. Ma perché? Ma che c'è adesso? Oh, è arrivato un nuovo messaggio. Esimio Bipo, simbolo reprensibile di coraggio, intelligenza e comprensione, luce di speranza per noi tutti. Se i miei calcoli sono esatti, ora dovrebbe servirti una mano. Vi prego di aprire gli allegati a questo messaggio. Vi assicuro che vi saranno di grande aiuto. Firmato il vostro più grande fan. BF? BowserFan98? Era un vecchio account di YouTube di... Un tizio che offendeva tutti. Mi ricordi? Wow, quando le miei parlava di allegati mi aspettavo dei video di gattini o roba simile. Che aiuto potrebbero darci dei gattini? Per quanto belli siano. Bene, siete pronti per il contrattacco? Impariamo le basi, certo. Chi non vorrebbe imparare l'ABC? Attenzione! I miei sensori rivelano la presenza di due nemici. E noi siamo in tre. Quindi possiamo perdere. Uno si nasconde dietro un riparo parziale. Quindi la possibilità di colpirlo è 50%. L'altro invece è ben visibile. Pertanto la possibilità di colpirlo è 100%. È stupido allora. Ok, rassegna gli obiettivi. Premi T.A. per colpire il bersaglio selezionato. Quindi scelgo lo squalampo. Però ha colpito lui. Non capisco perché l'abbia colpito lui. Comunque ok. Forse era in automatico e non ci ho fatto caso. Perché volevo colpire quello scoperto ma non mi cambiava. Bene. Quel Rabbids che era l'outfit di Peach con la gomma da masticare. Oh, vediamo un po' cos'altro abbiamo qui. Dei blocchi di acciaio. Simili a quelli che vediamo in Odyssey. Se proviamo a colpirli da qui beccheremo solo il riparo. Non è colpirli ai fianchi. Muovetevi con lo streak sinistro per posizionarvi in modo da avere la possibilità di colpirli 100%. Quindi seleziono movimento. Ah, devo scegliere io proprio dove andare. Ah, quindi devo andare qui. Lo posso anche attaccare. Quindi ho doppio. E poi attacchiamo. Quindi è un turno dove posso fare più cose. Non male. Con Mario dove andiamo? Direi... Direi qui con Mario dai. Tanto è uguale. Ma non becco niente. Non becco. Non lo becco. Oh! Che dolore. Mi muovo qui e... Non lo becco comunque. Quanto... Quanto posso muovermi? Scusami. Potevo andare anche... Sì, fino dove c'è il bordo. Ok, questo è chiaro. Però boh... Pensavo... Di no. Non lo so perché. Vabbè. Tanto è tutorial. Chi se ne frega. Vabbè, questa è colpa mia che non l'ho fatto fuori con Mario. Ciao, eh. Oh. T'ha posto? T'ha posto? No, ma solo perché è tutorial o perché abbiamo finito proprio... Vabbè. Lo scoprirò. Ah, dovevo finirlo in tre turni. Vabbè, dai. Continuiamo, dai. Per un altro pochino. Cos'è che dice? Lo riconosco. Sono i blocchi di assieme interrato. Spero siano più solidi dopo il trattamento che combina tutto. Ma non ci giurerei. Ah, ci ha fatto vedere quella visuale lì. Ok. Oh! Questo? Regno delle Megafoglie. Ok. Riprendi. Come riguardo gli oggetti? Non lo so. Se apro il menu non c'è un modo per vedere gli oggetti, quindi non lo so. Lassù, nel cielo? Vedete? Tutto è cominciato quando i Rabbids sono teletrasportati nel regno dei funghi. Mmm, quell'energia che si spregiona verso l'alto ogni volta che sconfiggiamo un nemico. Mi chiedo se... Un motivo in più per trovare quel Rabbid con il combina tutto. Di sicuro è due la chiave per sistemare le cose. Beh, cominciamo allora, dai. Oh! Mamma di te rosse. No. Non so se è tempo, ma... Non mi sembra. Ok. Vediamo un po' che compare qui dentro. Una carta rara? Ah, sparamiele! Ah, se solo potessi dargli un'occhiata. Quindi non si può effettivamente. Ok. Andiamo un po' a vedere. Figata! Beh, classico Mario, eh. Per carità, però è figo. Fatto. Monete rosse. Va. Devo dire, però, che è davvero curato l'appesaggio. È davvero pieno. Allora, visto che per ora non posso vedere gli oggetti che raccolgo, direi, insomma, darci una regolata e cercare qualcosa per poter rileggere. E qua che abbiamo? Oh, mamma mia, quanta roba, ragazzi. Vabbè, poi io per i collezionabili so fatto proprio male. Se non li prendo tutti, non sono contento. Vabbè, proseguiamo, dai. Oh. Nice. Spero solo di riuscire... Ah, ma sono tipo le musiche. Ho capito. Questo abbiamo già fatto. Guarda, più che altro, finire questa prima parte per capire, insomma, come vedere gli oggetti, come spendere le monete. I nostri omaggi illustrano sempre il verde della prateria. Siamo... Bene. Perché l'hai fatto? Da quando è arrivato quello sciroccato col visore, ho capito che queste creature portano solo voi. Ti garantisco che questi Rabbids non sono come gli altri. Oh, beh, se riuscirete a fermarlo sarò ben felice di ricompensarvi. Gli suoi amichetti sono proprio molesti. Immagino tu non voglia venire con noi per aiutarci, vero? Mi spiace, gente, ma è tempo per questo fiore di dedicarsi a questioni più profonde. Ah, pensavo tipo alla fotosintesi o cose del genere, a quanto pare, no. Opla, eh no, non le voglio lasciare le monete. Ah, qui si prosegue. E allora no, andiamo qui. Al momento è fuori uso. Però i Rabbids o lo aggiusteranno? Ok, lotta allora. Let's battle! A frontale? Vabbè. Ah, un'altra lettera. Carissimo Bipo, se c'è una filosofia da seguire è per forza quella della pratica. Imparando a gestire meglio i movimenti, darete una lezione a quei furfanti dei Rabbids. Ho appena caricato dei suggerimenti per aiutarti, i vostri più grandi fan. Ok. Novalotta allora. Salute extra, vuoi ripistrinare? No. Non so se è un help che ho raccolto. Potete infliggere danni anche in movimento seguendo una scivolata. Ah! E potete raggiungere i punti più distanti con il salto team. Selezionate una casella con un alleato e premete A. Ok, combo epica, scivolata e il salto team con un alleato. Ok. Bene. Aha! Fatto. È finito? Non è finito lui. E allora facciamo questa qua. Combo epica. Proprio qua sopra il nemico. Vai! Troppo distante? Ah! Vabbè andiamo qui allora. Dai, è uguale. Possiamo comunque attaccare poi. E' davvero carino sto gioco. Non so perché non l'ho giocato prima. La cosa importante è poi che non mi sono spoilerato nulla. Quindi non so assolutamente niente. Se non le basi. Ti colpisco qua. E' nulla. Le basi nel senso che ci sono i Rabbids, c'è Mario e i suoi amici e basta. Non so altro. Oh! Danno. Ah, posso mandare avanti veloce? Ok. Posso comunque colpirlo. Ah, però le rocce si rompono. Posso arrivare fino a qui col salto amici. O team comunque. Lo guardo da allora. Ok. E lei? Qui? E vado qui. Sì, sono esposto al fuoco nemico ma posso comunque attaccarli. Buono. Non importa, dai. Me ne faranno ragione. Ah. Ok, era doppio. Triplo veramente. No, fino a qui arriva. Magari poi si potenzia ma non lo so. Ok, questa anche è fatta. Non so se ci sono altre abilità poi. Ah, massimo quattro turni. L'ho fatto in tre. Sono bravo allora. Sono super. Ah, ma qui è bloccata la camera. Perfetto, vai. Ora possiamo andare. Ok. Altro collezionabile, se no sto male. Ed ecco si continua. Altra lotta? Dai allora. Ah, ma sono di più stavolta perché c'era anche di là c'era. Sììì È il momento di mettere in pratica tutto quello che avete imparato Attacco, movimento, salto, teen, scivolata E non dimenticatevi dei ripari Ed è possibile cambiarlo in qualsiasi momento usando LR Per passare da attacco a movimento usando ZL Fate del vostro meglio Allora cominciamo direi con un attacco scivolata E poi anche un attacco Sparo Let's go Spermete Ah ma abbiamo pochi punti salute Ah ok Allora uno è andato Però ora posso anche sparare con lei Sì ora posso E con Luigi dovrei finirlo Però non può spararmi a Luigi Sì così dovrebbe andare Mi prendo un piccolo danno ma non importa Ah posso comunque sparare da qui è vero Ve lo becco lo stesso Ah i nemici sono due Per cavolo Va bene va bene va bene va bene Così questo lo sparo E se ne va No non se ne va Però posso comunque sparare Si può sparare Illuminarlo Ah aspetta No è comunque poco Allora facciamo così Non conviene Però invece ora possiamo Possiamo provare a sparare Ok E ora Posso andare Qui e fargli male Iniziamo con piccole strategie Mandato Grande Ottimo Mi sta piacendo molto Mi sta piacendo Ah quindi quando terminiamo una zona Ci ricarica la salute Ho capito ora Bello Allora girasole A posto Ti è piaciuto? Mario la cattura con il visore Se n'è andata Ma suppongo che sia tutto Merito tuo E poi che sono una pianta Di parola Ti emerti una ricompensa Ah Certo anche i nostri buoni amici Rabbid Luigi e Rabbid P ci hanno dato una mano Ok ok Bravi Sei molto seccato Una moneta Ok va bene Ecco qui Ecco Già va meglio Non è che sono uno Aspetta Devo andare a prendere Motri che abbiamo lasciato di là Non importa Ci torneremo In un altro momento Se mi viene voglia Di completare Tutti quanti i collezionabili E di qua Ah certo Non si può ancora spingere Quindi niente Sarà un problema Del futuro Oh C'è Todd Non ci credo Todd Mario No se a cielo sei qui Sei il primo volto amico Che incrociano Quando il regno di funghi Si è trasformato In questo Disastro Un tempismo davvero perfetto Non so dove si si è cacciato To death E tutto per colpa Di questi strani tubi Che i nostri amici Rabbids Hanno portato Nel vostro mondo I tubi C'erano sempre Da sempre Comunque Pare che se avete robito È fatto vostro Più o meno Mi aiutate a ritrovarla Per favore E va bene Ma preparati Scoprire in prima persona Quanto possono essere Sgradevoli Questi tubi Let's go Let's go Dici Non sono così belli Oh taci Indisponentissimo Lui però Bipo Quanto sei indisponente Mamma mia Ci sta Ci sta Però dai Ah Sono multipli Ok Questo è molto strano Andiamo di qua Prima Ah si Tanto adesso Oh Oh my E questo Bonus Let's go I livelli bonus A tempo Belli So che prima o poi Ne perderò uno E quando accadrà Sicuramente molto presto Inizierà Inizierò a vederlo Come una sfida Vera e propria Ah poi la strada giusta Ora che ci penso È segnata Dalle frecce Vabbè Meglio tardi Che mai Ah perché Se no Non ci potiamo andare Ma era necessario Cioè Magari Te lo introducono Come Ah guarda Che ci saranno Anche questi Piccoli Puzzle Da risolvere In futuro Codette Che bello Vedere che stai bene Oh io sto benissimo Però sono preoccupata Per la principessa Peach Mario potrei andare A castello di Peach E controllare Che sia tutto ok Certo che no Prima dobbiamo trovare Drabid Stralunato Ho un altro messaggio Ancora Bowser fan Complimenti Per essere arrivati Fin qui Un saggio Una volta disse Se avessi tre ore Per tagliare un albero Ne passerei due Ad affidare la mia ascia Mi sorto quindi Tornare subito Al castello di Principessa Peach E prepararvi Per lo scontro Da affrontare Ok Tutto giusto Per carità Ma la domanda è Come? Vi starete di certo Chiedendo Sì ma come? Wow Mentre leggevate Quest'email Ho aggiornato il sistema operativo Da XP E passate al 7 Ora potete fare affidamento Su un sistema Di trasporto a GPS Mi piace chiamarlo Splowing Ma sto Eh Lavora sul nome Che è meglio A ogni modo Vi basterà attivare E tornarti tutti Immediatamente A castello di Principessa Peach Filmate il vostro più grande Bowser fan A 98 Beh se fosse vero Sarebbe incredibile Credo che dovremmo Prova Ciao Todd E Toadette Mario Grazie a cielo Stai bene Che bello vederti Io maggiori Non te ne sei accorto Ma comunque Il regno dei funghi È nel caos Devi fare qualcosa Mario Ma Chi sarebbero Questi tuoi nuovi amici? Eh amici Sua altezza Mi permetta Sono Bipo Assistente automatizzato Dato l'intelligenza spontanea Dedito alla ricerca E l'attività sul campo Quindi lui è superiore Alle macchine Che crea Skynet Capisco E Questo lo chiamiamo Rabbid Luigi E questo è Rabbid Peach Temo che stia prendendo Un po' troppo su serio Questa faccenda del cosplay Che ha visto? È i Rabbid costruttori Ovviamente Dato che è il Rabbid Luigi Ci prende gli schiaffi Già E a quanto pare I suoi amici Non sanno da meno Guarda un po' I Rabbids Che abbiamo liberato Del controllo Del mega bug Sono qui Mega bug Che è stato spiegato Solo ora E tutti interi Peraltro Esatto Continuano ad appare Nulla Come avete fatto voi Ah quindi loro Costruiscono Gli altri punti Per poi andare Con i vecchi Che stanno A due cantiere Si vede Che questo gioco È di stampo italiano Esatto Mi sono messi Proprio di impegno Sapete tempo Vi suggerisco Di dare un'occhiata A quello che hanno costruito Mamma mia Stupendo Peach Mi pare che Ci sia quello Che chiamano Il centro battaglie Ah Quelle online Forse E poi c'è il museo Adorano collezionare Souvenir Dal regno dei funghi Venite Andiamo a scoprire Cosa hanno combinato I vostri cugini Rabbid Oh E quindi Andiamo quindi Di qua Prima Ok Bisogna per forza Vederlo Poi concludo Il video Ah posso anche Selezionare L'arma Dato che ho Questa pixelosa Perché ho comprato Anche il DLC Penso che sia giusto Usarla Danno da rimbalzo Possibilità Rimbalzo Ma Scegliamo questa Dai Ah ma di qua si va per il mondo 1 Aspetta Le devo andare a vedere il museo Prima Quindi abbiamo I dipinti Le musiche Ok Ah qui le statuine Fighissimo Vabbè Vabbè Io questa roba Impazzisco Controllato tutto E guardate là Bello Hanno resito un cannone Capace di lanciarci indietro Fino ai giardini ancestrali Ho preso un'altra arma Però Era Molto scadente Devo ammettere Allora in ogni modo Il video può terminare qui Io amici vi ringrazio Per averlo seguito Non vedo l'ora di continuare Domenica con il prossimo episodio In descrizione trovate i link Instagram e Telegram E se ancora non siete iscritti al canale Magari iscrivetevi E noi ci vediamo ovviamente domani Con un nuovo video Bye bye